Senza storia l'impegno interno della Bucinese contro il Grassina, la capolista passa con 5-0 che non merita ulteriori precisazioni, chiudendo già nel primo tempo pratica in match, anche sfruttando più di una problematica del campo. La dimostrazione sta subito nel lancio per Chetella, con pallone fermato dal fango. L'undici ospite si presenta solo davanti a Nannicini, calcia però sull'esterno della rete. Due minuti e Berlini di prima intenzione raccoglie la respinta di Sala, non trovando però ancora i pali. Ci riesce al ventunesimo invece Meacci, che sfrutta la palla vagante al limite dell'area piccola dal corner, 1-0. Il raddoppio nasce da una topica clamorosa di Nannicini, che non prende il pallone in uscita, porta spallancata per Tella, che insacca senza problemi. Siamo alla ripresa, un minuto, Berlini se ne va in solitudine, tutto bene fino alla conclusione, sparata alle stelle. Ma al quarto minuto ecco il 3-0. Assis da destra al bacio dello stesso Berlini per Bruni, che giunge primo sul pallone tra tre avversari, calando il tris per i suoi. La gara a questo punto è chiusa qui e nella girata, volenterosa ma poco efficace di Dalterio, è racchiusa l'unica nota offensiva della Bucinese. Nel finale però il grassino allunga ancora. Berlini apre per Cattani in ripartenza, diagonale del numero 2, e giunge il poker. Un poker che divene scala reale quando ancora sul destro di Berlini Nannicini respinge male centralmente, irrompe il neoentrato Vannoni e porta i suoi a 5 gol. Inutile dire se il punteggio è troppo pesante, il divario è comunque abissale.